Il pomeriggio dal campo del Vittoria Ivest, in questa quarta di campionato si incontrano il Vittoria Ivest 2002, maglia rossa, pantaloncini blu e il San Maurizio Canavese, maglia blu, pantaloncini neri. Sabato 1 novembre 2014, quarta di campionato esordienti primo, secondo anno. Il Vittoria Ivest 2002 attacca da destra verso sinistra e il San Maurizio Canavese da sinistra verso destra. Il Vittoria Ivest, maglia rossa da destra verso sinistra e il San Maurizio Canavese da sinistra verso destra. Maglia blu, pantaloncini neri. Dai ragazzi! Oh! Buon calcio! Fuori! Fuori! Buon calcio! 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 Dai 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 1 a 0 tiro masticato bravo 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 Sempre uno zero a primo tempo, tra il Vittoria 2020-2002 maglia rossa e il San Maurizio Canavese maglia blu, quarta di campionato 1 novembre 2014. Mago Hashtag, mancalo! Bravo Giorgio, vai! Bravo, occhio a casa! Vai, vai! Forza Simone! Vai, dai, dai! Vai Gabri! Vai Gabri! Vai Robi, vai Robi! Al centro, al centro! Bravo Roberto! Aiutatelo! Dai, dai, dai! Dai, dai, dai! Dai, dai, dai! Dai, dai, dai! Dai, vai! Dai, vai Fede! La morale è tua! Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai! Bravo Giorgio! Dai, dai, dai! Bravo! Grazie, sei il gol pieno! Vieni lì! Bravo! 2 a 0 8 gol bravo Gianluca, bravo tiro di obu mi dicono deviazione del difensore bravo bravo Fabio bravo Fabio brucialo 2 a 1 ha segnato il Samorizzo bravo 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 e così Roby non vogliamo raga vai 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 dai Federica bravo buona dai vai Samu vai Samu dai Gabriele segue l'azione Gabriele vuoi fare tu hai grande fede oggi bravo 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 dai dai forza Ives dai che è nostra dai eh dai bravo 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 non ti fa saltare Gabri dai bravo bravo ammina guarda fuori gioco guarda col camicero non colguo tocca Simo dai Simo dai Simo dai bene dai che la verde bravo 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 Inizia il secondo tempo, si attacca da sinistra verso destra, maglia rossa e siamo riusciti a garamese a destra verso sinistra. Vai, vai, vai! Grande, così, dai! Bravo, Degli! Cambia il centro, dai centro, dai centro! Dai, vai, vai, vai! Con mollate! Con le mani! Dai, Simone! Bravo, Alberto! Dai, in avanti! Dai, Matteo! Secondo tempo, 2-1 per l'editora Ives, questo primo novembre. Dai, Matteo! Segna! Dai, Matteo! Bravo! Bravo! Dai, ragazzi, bravi, dai! Così, Degli, così! Gli ha segnato! Ha segnato il Gwain! Goal! Menomale! Dai! Dai, svegliatevi però! Dai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai! Ma, Sette, vai in avanti, noi indietro! Continua! Continua! Non lo può prendere! Bravo, Sì, vai, Gabri! Mi sentite nel pressing! Vai, Gabri! Dai, dai, che sciamo! Dai, dai, dai! Perché sono bravi per calzare la... Oh, no! Capitano, vai! Bravo! Bravo! Bravo, Marti! Bravo, Marti! Bravo! 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 Via, via! Vai, vai! Vai, si male! Vai, si male! E via, giù! Vetti, gli avessi! Vetti, gli avessi! Vetti, gli avessi! Vai, dai, vi avessi! Il senso di Mariani è deciso! Vetti, gli avessi! Vetti, i veri, allievi! Bravo, allievi! Vetti, lì! Vetti, lì! Vetti, lì! Sì, lì! Vetti, lì! Bravo! Guarda l'olio! Questa, non forse! La voglia! Vetti, lì! sempre addosso, ritirato dai Gabri, con calma grazie bravo nooo forza sempre 2-1 per un giuttore di resta bravo David via 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 bravo così dai quella è la pallo dai dai mamma sono in 2 bravo stiamo Robert come ha detto sempre 2-1 non va da segnare nel corso secondo tempo dai dai bravo Roberto e testa bravo dai Gabri dai vittorio vittorio bravo cambia dai 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 bravo dai 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 bravo vai ragazzi chiudilo chiudilo ma cosa vuoi fare ma che casino via 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 quello li era tre volte con il gruppo il portiere ha buttato il gruppo eh eh dai 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 albicosti dai Macken dai forza recupera Simo dai in avanti ma che cazzo ti va sempre indietro va bene va bene dai se gliel'ha passato Simone se gliel'ha passato uno dei nostri se lo sei arrivato guarda Camilla aiuta bravo Loni 2 a 2 dai dai ma peggio 2 a 2 secondo tempo brutta partita ma svegliati Simone questa è la mamma di Simone questa è la mamma di Simone eh che cavo forza forza Gabri dai Gabri passala passala bravo 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 Roberto no e la mamma di Simone così 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 dai noi facciamo respirare dai 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 ultimo tempo 2 a 2 adesso va bene va bene dai 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 Si no Si no devi anticipare 2 a 2 terzo tempo, attacchiamo da sinistra verso destra, lì a Vespaglia Rosso, 1 novembre 2014, esordienti secondo anno, campionato, quarta gara. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 3 a 2, terzo tempo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.